oggi fra sport invernali soprattutto sci alpino che è quello che ho visto e tennis direi comunque ottime cose ottime cose partendo dallo sci alpino dagli sport invernali ma prima di farlo ben ritrovati a tutti in questo video buonasera da tutti iscrivetevi campanella mi piace ditemi la vostra qui sotto qui sotto nei commenti scusate ma sono un po rimambito perché non so tanto bene e sci alpino che dire marta bassino tutta altra storia rispetto allo scorso anno è partita veramente benissimo in questa stagione prima quindi pettorale rosso nella classifica generale di slalom gigante appunto praticamente sempre a podio oggi seconda posizione dopo i due terzi posti gli ultimi due terzi posti insomma in gigante arrivati a a semmering in austria qui seconda posizione con una valeri grenier la canadese che le toglie praticamente la vittoria bassino che era riuscita comunque a scalzare dalla prima posizione una petra una petra blova comunque che ha che ha effettuato un'ottima seconda manche ottima la seconda manche anche di bassino stupenda pazzesca quella della canadese primo podio e prima vittoria in carriera per lei quindi che dire la giornata di grazia e non puoi far niente quando un atleta è in stato di grazia così come la canadese oggi non ci sono campionesse campioni che tengano insomma ecco è la sua giornata fine quindi bravissima grenier quindi marta bassino prima in classifica ha trovato la sua sciata sciare meglio di così è praticamente impossibile quindi speriamo veramente si continui per tutta la stagione così federica brillione un altro quarto posto credo sia il il secondo stagione però comunque rispetto a qualche altra gara che ha fatto diciamo molto bene peccato veramente oggi il podio sfuma non non per molto però comunque anche la brignone c'è deve arrivare se non erro il cinquantesimo podio in carriera non arriva diciamo se lo deve sudare questo podio e così sia insomma così sia sarà ancora più bello quando arriverà stessa cosa vale per michaela schifrin che deve raggiungere l'ottantaduesima vittoria in carriera qualche giorno fa vittoria nello slalom speciale di zagabria tra l'altro aprendo e chiudendo una parentesi già hanno scorso insomma di sì due parole al riguardo ma uno slalom in quelle condizioni è già da tempo che fa che fa comunque schifo perché continuare a farlo o ce l'ho la risposta solamente per i soldi e sicuramente è così però vabbè ce ne sarebbe stato insomma uno il giorno dopo di slalom che non non è stato effettuato per per impraticabilità se non vado errato ora non so di preciso insomma però non so se per il meteo oppure per le condizioni della pista insomma poco importa fatto sta che non è riuscita a centrare lì l'ottantaduesima vittoria la schifrin oggi comunque qualche errore e nemmeno oggi se ne pare quindi anche lei si deve sudare questa ottantaduesima vittoria e quindi deve sudarsi l'aggancio all'insivon poi abbiamo Ingemar Stenmark che diciamo è colui che ha vinto più gare a livello di coppa del mondo tra maschi e femmine nella storia dello sci alpino ben 86 ma direi che può benissimo raggiungerlo e superarlo quindi bravissima Micaela che per quanto riguarda la classifica generale comunque pole position veramente e poi c'è stato anche vabbè il gigante maschile oggi con Odermatt che fa da padrone e anche qui per la classifica generale stesso discorso della schifrin quando due sono così competitivi e così forti su più discipline tra l'altro che vuoi dire e hanno questa continuità giù il cappello quindi grande Odermatt e bravissimo della vite Filippo della vite una speranza per quanto riguarda il gigante il gigante maschile pian piano cresce accumula belle prestazioni e va bene così per quanto riguarda il il biathlon ho visto qualche qualche risultato insomma una dorotea birer che doveva forse cioè si parlava del ritiro no non molto tempo fa un po di mesi fa e invece no alla fine ha deciso di continuare e direi che ha fatto bene perché sembra veramente in forma e speriamo che raggiunga il top della forma per per quando insomma ci saranno i mondiali di biathlon poi vabbè quest'anno Elvira Obery veramente sugli scudi serve un'ottima prestazione al poligono 1-0 della svedese per far sì che che venga abbattuta la nostra dorotea il biathlon diciamo rispetto all'anno scorso lo sto seguendo un po di meno anche per tutte per tutte le cose che ho attraversato e che sto attraversando ma vabbè questi sono sono dettagli insomma passiamo al tennis passiamo al tennis e che dire è iniziata la stagione si inizia ovviamente dall'australia ma anche dall'india oggi c'è stata la prima finale prima finale del di un torneo insomma atp della stagione dell'anno 2023 e sinceramente non ricordo che abbia vinto però comunque la finale a puna era fra grixpur e bonzi insomma non credo ci siano in questo canale tifosi di uno dei due giocatori quindi vabbè lo andrò a rivedere appena terminato il video adesso mi sfugge ad adelaide gioco vich in finale primo torneo della stagione e prima finale ma a noi ci interessa oltre che il torneo di adelaide nel quale comunque ha ha giocato jannik sinner è arrivato ai quarti di finale poi ha perso contro corda altro infortunio e qui veramente non ne vorrei parlare però dico solamente una cosa speriamo che non si ricominci come l'anno scorso io ho avuto questa impressione che che l'anno cioè ho impressione che la stagione 2022 non sia mai finita in realtà perché praticamente non l'abbiamo finita la stagione 2022 cioè si è finito con la coppa davis sì poi però ci sono state altre esibizioni eccetera eccetera quindi a livello proprio di sensazione mia mi sembra come un tutt'uno cioè capite è finito il 2022 pam comincia il 2023 spero però che non sia che non vanga questo per sinner nel senso che lo scorso anno tanti infortuni quest'anno bisogna cambiare marcia e certamente non è il migliore degli inizi pare che questa volta sia stata l'anca comunque a dargli problemi e vabbè non ho visto questo match però amen pace speriamo veramente che che ci possa essere insomma all'Australian Open non ci sarà l'Australian Open Carlos Salkaraz e mi dispiace perché è il numero uno al mondo è uno forte a qualcuno sarà antipatico sì però ci devono essere ci dovrebbero essere tutti più forti per me in uno slam e vabbè Djokovic oggi che fa suo il match contro Medvedev ad Adelaide anti P250 ricordiamo anche lui si tocca il flessore non ho ben capito insomma poi Medvedev credo anche che lo abbia preso in giro un pochino come per dire ammazza cioè questo è infortunato e gioca in quel modo e mi batte anche in questo modo però vabbè sono dettagli Djokovic come detto in finale ma per quanto riguarda il tennis e per quanto riguarda l'Italia soffermiamoci un attimo sulla scusate sulla United Cup prima edizione maschi e femmine giocano assieme ovviamente e Italia che da ripescata incontra la Grecia e la differenza la fa certamente Martina Trevisan Martina Trevisan che batte Maria Saccari questa è la differenza di questa sfida diciamo così cioè è stato lago della bilancia diciamo così ecco perché poi c'è stata anche la sconfitta di Berrettini sì ma prima la vittoria di Musetti che ci ha portato sul 2-0 per la sconfitta di Berrettini è la vittoria abbastanza agevole anche questa di Bronzetti e sono contento tra virgolette che Berrettini abbia perso con Sissipas uno perché non ha perso male due perché in questo modo ha dato la possibilità comunque a Bronzetti di caricarsi con questa vittoria Bronzetti se non erro nel suo ultimo match giocato alla United Cup non era data proprio benissimo se non vado errato potrei dire anche la stupitaggine però comunque ho fatto questo questo piccolo questo piccolo ragionamento e quindi una bella Italia in finale contro gli Stati Uniti si vola partiamo forse sfavoriti forse favoriti non lo so in competizione di questo tipo tutto può accadere certo è che se ci mettiamo il cuore possiamo arrivare veramente ovunque e anche se è un torneo che magari ad alcuni non ne importerà molto però iniziare magari con una vittoria del genere anche a livello di gruppo proprio di spirito di morale potrebbe essere una mano santa veramente quindi speriamo bene e che dire buona serata a tutti ragazzi iscrivetevi campanella mi piace ditemi la vostra qui sotto nei commenti spero di non essermi dimenticato nulla se fosse così perdonatemi e al prossimo video